Se hai bisogno di soldi, una giunta dell'Axo o completi i mod dati non esitare a contattarmi Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen ragazzi Iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da PS in descrizione trovate i gruppi anche per Playstation E adesso al nuovo video Benvenuti raga Qua è Savix che vi parla Allora ragazzi oggi Afterpatch del Car2Car ragazzi Allora requisiti per questo glitch ci servirà un amico che ci dà una mano come sempre con un veicolo Quindi dovrà entrare dentro l'S con un veicolo Noi dovremmo prendere un veicolo ragazzi che sta nel piano officina dell'arena Dopodiché ci servirà il garage quindi un appartamento dove mettere le macchine che vogliamo moddare ragazzi A questo punto entriamo dentro l'S con il veicolo da cui vogliamo prendere le modifiche che sta all'interno dell'arena ragazzi A questo punto una volta che spawnerete all'interno non resta altro che dire al vostro amico raga di avviare la solita gara sprint dal menu interazione ragazzi Gli dite di avviarla e stare all'interno del veicolo mentre noi potremo stare anche fuori non è importante A questo punto una volta che avvierà la gara sprint raga A noi arriverà questa notifica prendiamo la notifica e aspettiamo che passi il tempo i 30 secondi per avviare l'attività ragazzi Intanto non approfitto per dirvi di iscrivervi lasciate like lasciate un commento condividete ragazzi il video aiutatemi a far crescere il canale raga Quindi a questo punto una volta che saremo spawnati nella gara sprint non dobbiamo fare niente di così difficile Semplicemente ragazzi dirigiamo alla nostra arena Mi raccomando ragazzi è fondamentale il veicolo che usate dovete prenderlo dall'arena dal piano officina Se no il glitch non funzionerà ragazzi Quindi una volta che siamo arrivati all'arena lo inseriamo nel piano officina raga Una volta che cliccheremo su piano officina ci darà questa schermata nera Dopodiché ci farà respawnare fuori ragazzi in strada Quindi una volta qua raga mi raccomando tenete schiacciato il tasto triangolo o y a seconda di dove giocate Dopodiché quando respawnerete raga vi farà morire in automatico A questo punto ragazzi dovremo diventare ceo Per diventare ceo dobbiamo fare il trick che facevamo per mordare col vecchio glitch Quindi andiamo su ceo andiamo su avvia organizzazione ragazzi Teniamo schiacciato y o triangolo e quando la barra rosa è piena spammate il tasto a o x a seconda di dove giocate ragazzi Quindi a questo punto rifate questo step finché la parte dove c'è scritto avvia organizzazione che è grigia non va la dia nera Quindi selezionabile e a quel punto potremmo diventare ceo come sto facendo io in questo momento ragazzi Quindi a questo punto ci dirigiamo nello Santos Custom più vicino a noi quello più comodo ragazzi E una volta che siamo arrivati dallo Santos Custom dobbiamo fare un piccolo trick all'interno Quindi una volta all'interno di lo Santos Custom ragazzi non dovremo fare niente di speciale Nella schermata quella per riparare il veicolo quindi mi raccomando fate fare un danno al veicolo in modo che avete quella schermata Dovete cliccare una volta cerchio o bis e giocate da xbox ragazzi e a questo punto tenere premuto triangolo Adesso dovremo uscire dallo Santos Custom ragazzi A prendere una qualsiasi auto di un civile ragazzi Non è importante quale prendetene una qualunque ragazzi A questo punto una volta che abbiamo il veicolo del civile Apriamo il telefono e andiamo a richiedere il veicolo che vogliamo moddare dal meccanico Ma dovremo allontanarci ragazzi vedete che si farà questo glitch e torneremo qua A questo punto nella minimappa vedremo il nostro veicolo personale Adesso ci allontaniamo ragazzi in tal modo da poter richiedere il veicolo personale quindi quello che vogliamo moddare Una volta raggiunto il limite di distanza dove ci fa richiedere il veicolo lo richiediamo Aspettiamo qualche secondo veramente veloce a spawnare grazie all'aggiornamento che hanno fatto Dopodiché regà dovremo tenere schiacciato triangolo se siete a play o y per respawnare E quando respawneremo ragazzi il gioco sarà fatto E sbadabamme regà avremo moddato il veicolo Adesso ragazzi questo glitch è semi massivo quindi se facciamo l'ultimo step possiamo moddare continuamente Quindi adesso per salvare il veicolo dobbiamo fare una modifica qualsiasi ragazzi una semplice modifica Quindi ragazzi a questo punto vi faccio vedere come moddare semi massivo Quindi entriamo all'interno di lo Santos con la stessa macchina che comunque sia dopo aver fatto la modifica la abbiamo salvata E' nostra e una volta che siamo qua dentro clicchiamo una volta cerchio e in questa schermata teniamo schiacciato triangolo O y ragazzi mi raccomando entrate con il veicolo con un po' di danno così avete quella schermata Adesso regà invece di respawnare avremo questo bug avremo la schermata nera Per sbaggarci dobbiamo partecipare su qualcuno che si ammira manuale quindi su Anawak ragazzi E una volta partecipato accettate il primo messaggio e rifiutate il secondo messaggio Quindi a questo punto rifate lo step di prima ragazzi Ora vi velocizzo la clip quindi prendete la macchina del civile Vi allontanate vi fa rispavolare vicino vi allontanate richiamate il veicolo che volete moddare dal meccanico A quel punto schiacciate triangolo y per rispavolare e avrete moddato il veicolo Per salvarlo andate dallo Santos e così via e così via Ragazzi a questo punto vi voglio dire anche una cosa per chi è arrivato alla fine di questo video Potete provare a moddare in due perché questo glitch dovrebbe far moddare a entrambi i giocatori Quindi il nostro amico che è fermo in realtà può moddare anche lui Fatemi sapere nei commenti se ci riuscite Io spero che i miei video vi piacciono Lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete i miei video E sbada bam raga Alla prossima Alla prossima